Storie, riflessioni e memorie giornate dall'accoglienza. In un auditorium dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Caltagirone, gremito in ogni ordine e spazio, si è stato celebrato un grande momento di solidarietà, al quale hanno preso parte oltre 200 studenti delle scuole degli istituti superiori di secondo grado di Caltagirone. Un momento di integrazione ma anche un momento di apertura verso il territorio e la solidarietà. Certamente, il comune di Caltagirone è titolare del progetto SAI, che è il progetto di accoglienza e di integrazione. Ospitiamo qua a Caltagirone tantissimi minori stranieri non accompagnati, abbiamo aperto le porte anche alle famiglie afghane e ai nuclei monoparentali e agli orfani ucraini. Quindi la nostra città ha dimostrato grande spirito di accoglienza verso tutte le categorie. Questi momenti sono momenti significativi perché permettono di sensibilizzare l'opinione pubblica a questa tematica e i nostri operatori dell'ATI, quindi delle cooperative che gestiscono questo servizio, sono stati in grado oggi di organizzare una manifestazione veramente significativa perché hanno coinvolto le scuole superiori di tutta la città e i ragazzi hanno risposto con entusiasmo, con profondità d'animo, veramente mettendoci il cuore. Le manifestazioni, le riflessioni, le poesie, i disegni sono stati veramente commoventi. Il finale con il gioco di ombre, con la mostra che vediamo qui alle mie spalle del fotografo Andrea Naloro, e uno sventolio di bandiere di tutti i paesi di provenienza dei ragazzi, ci hanno proprio fatto commuovere. Progetti sai, integrazione ma anche sorprese per quanto riguarda i piccoli partecipanti. Sì, i nostri ragazzi sono stati i protagonisti di un laboratorio sperimentale, sperimentale perché è nato tutto in divenire. Partendo dal gioco delle luci e delle ombre abbiamo raccontato le storie che stanno dietro ad ognuno di loro, dietro le loro partenze, il loro imbarco, dietro un arrivo che non si sa dove porterà. Però attraverso la loro esperienza siamo riusciti a ricostruire anche i loro sogni, il sogno di partire, di avere una nuova vita, di avere dei sogni da realizzare in futuro e poter manifestare con la loro presenza qui, la loro testimonianza ai ragazzi, la loro voglia di cambiare vita e di ritrovare il coraggio di riuscire a ricostruirsi una vita. La cosa bella ed emozionante di stamattina è stato proprio il coinvolgimento di alcune classi delle scuole di Caltagirone. Abbiamo assistito ad alcuni interventi di altissimo livello dei nostri ragazzi, tante volte sono bistrattati come ragazzi che non sono buoni a nulla, non sanno fare nulla, invece oggi i nostri ragazzi hanno dimostrato di avere veramente qualcosa in più, una marcia in più. Ed è bello come noi adulti siamo riusciti a far emergere questa dote nascosta. La Caltagirone che funziona è proprio questa, fatta di ragazzi in gamba che hanno una qualità non indifferente e noi siamo contenti proprio del risultato finale. Un'esperienza riuscita, un'esperienza vissuta, quella di andare in Africa per effettuare questo reportage. Sì, una bella esperienza. In occasione di questa giornata dell'accoglienza ho voluto regalare un po' questa mia esperienza in Africa, esattamente in Senegal. Un'esperienza che mi ha letteralmente segnato perché vivendo lì con loro, le loro abitudini, la loro quotidianità, ho ritrovato del tempo che spesso noi perdiamo per tante cose. Lì riesci a capire esattamente il valore del tempo. L'iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Caltagirone, Patrizia Alario, Assessore Comunale alle Politiche Sociali. Grazie a tutti.